Proseguono le operazioni alto impatto a Torre Annunziata. Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona denominata Annunziata, nel rione Penniniello, via De Simone, via Marconi, piazza Giovanni XXIII e sul lungomare, che ha visto in azione nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e della squadra mobile e militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del reparto prevenzione e crimine campania delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e di personale dei vigili del fuoco. Identificate 164 persone, di cui 54 con precedenti di polizia, controllati 83 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, ai fini della successiva confisca e contestate cinque violazioni del codice della strada, per guida senza patente, poiché mai conseguita, mancata esibizione dei documenti di circolazione e di vieto di sosta. In particolare, una persona è stata denunciata per guida senza patente, poiché recidiva nel biegno. Infine, in uno stabile diroccato in via Grazie, hanno rinvenuto, tra alcuni cumuli di materiale di risulta, una pistola Glock, risultata rubata a Roma nel 2009, 28 munizioni calibro 40 e all'interno di un calzino 77 sim card telefoniche.